Martino Ragusa, turista per cibo a Casteldario in provincia di Mantova. Casteldario è sinonimo di risotto alla pilota e sono qui in questo bel ristorante che si chiama Il Macello perché è un ex macello, assieme al mio amico Nicola che è chef e patron del macello e ci sono molte molte sorprese. Il nostro risotto nasce con il nome della pilota perché era preparato dai pilarini, dai piloti che erano quelli che si occupavano della lavorazione del riso e quindi lavoravano nella pila. Il metodo tradizionale è ottenuto da un contenitore di rame perché il rame è un ottimo conduttore di calore e essendo la cottura per metà in bollitura e per metà a vapore c'è bisogno di questo grande calore che continui anche senza fuoco. Adesso Ivano sta preparando il pesto, vero? Sì, sto sezionando la carne per passarla nel tritacato per il pesto. Che taglio usate per il pesto? Questo è una sottospalma, il fondello e qui la pancetta. Gli altri tipi sono il sale, il pepe e l'aglio. Poi si mette in questa bella mastella, hai messo il sale, ho visto, il pepe e l'aglio. Deve essere così sfregata proprio con le punte delle dita, così sfregata, poi ripassata in questo modo. E mi dicevi che le carni vanno tritate col filtro dell'otto. Una volta che si è finito quell'impasto lì ha bisogno di riposare dentro al frigorifero coperto in modo che non si ossidi e riposare un giorno in modo che il sale faccia poi il suo lavoro. La cottura del pesto poi è altrettanto importante come noi andremo a cucinarlo perché deve essere cucinato in modo veloce in padella, quindi largo, con solo un poco burro e quindi si abbia una rosolatura, non una lessatura. E poi non smetti mai di mescolare proprio per favorire il contatto col metallo, e quindi col calore, col tino, di tutte le parti. Ecco qui abbiamo messo per 4 o 6 persone, 4 o 6, medio grado di riso. Sì, io non l'ho misurata ma è poco meno di un litro. Poi si versa così facendogli fare la punta, si versa in modo che il riso stia tutto al centro. Poi togliamo l'acqua in eccesso fino a che la punta riesca. Ecco qui vedo che c'è il vertice del cono che è fuori. Che deve fuoriuscire dall'acqua. Quindi la misura dell'acqua ti rende il fatto che il fuoriesce di quel mezzo centimetro, di quel centimetro. Quindi adesso lo stai mescolando e lo fai bollire per 5 minuti adesso. Adesso in 5 minuti assorbe tutta questa acqua. E quando l'abbiamo versata e abbiamo alzato il fuoco deve andare intorno agli 8 minuti. Si spegne il fuoco, va pareggiato senza più mescolarlo. E' coperto con una tovaglia e il coperchio. La tovaglia ha il compito di assorbire l'umidità che risale verso il coperchio. Noi lo lasciamo riposare per 15-20 minuti e poi dopo controlleremo la cottura. Mescoliamo, vero? E adesso si condisce, no? Adesso si condisce ma non nel rame. L'abbiamo trasferito nell'acciaio e adesso lo condisce con il pezzo. Se si vuole parlare di trasgressione deve essere col pontello, la bracciola sopra. E se vogliamo trasgredire anche una salamella, che così trasgrediamo di più, alla faccia del colesterolo. Da bere? L'ambrusco. L'ambrusco. Ma va completato con questi però, vero? Si. Finalmente. Grazie. Grazie.